L'Altra Voce Notizie Informazioni Dibattiti Parole ed opinioni Tante voci dalla TV L'Altra Voce, una voce diversa L'Altra Voce È un programma di Remo Cristallo con la partecipazione in studio di altri pastori evangelici della Campania Gentili amici, cari telespettatori Rieccoci alla nostra trasmissione dell'Altra Voce Nuova Edizione È la seconda trasmissione di questa nuova edizione e chi ha già avuto la possibilità di poterla visionare si renderà conto, si era reso conto che è completamente diversa Diversa soprattutto sull'aspetto tecnico di quelle che sono le realtà che vogliamo presentarvi ma anche per la durata dello stesso programma ma prima ancora di introdurci in quello che è l'argomento che abbiamo già annunziato nella trasmissione precedente che riguarda e riguarderà giovani e famiglia a questo punto voglio presentarvi i servitori i pastori evangelici che fanno parte di questa trasmissione e noterete che non sono più a gruppi di due o tre ma sono un contesto che diventerà praticamente abbastanza omogeneo sulla mia sinistra abbiamo il pastore Michele Romeo poi abbiamo il pastore Paolo Malerba il pastore Michele Passaretti poi sull'altro lato abbiamo il pastore Elpidio Pezzella abbiamo ancora il pastore Antonio Romeo e Daniele Bachman fatte queste dovute presentazioni partiamo subito con quello che è un documento possiamo dire una scheda video che darà inizio e farà comprendere il contenuto cui vogliamo intrattenerci e intrattenervi sperando di farvi cosa realmente utile e gradita e io vi benedico anche per questo via ancora la scheda tecnica la famiglia è la spina dorsale della nazione è parte sostanziale della vita, del progresso e della società è la sede principale per l'umanizzazione di un individuo essa dovrebbe essere di indirizzo alla persona per trovare una collocazione nel mondo i vincoli sentimentali familiari sono vitali per la realizzazione dell'identità individuale e sociale se il rapporto in famiglia è sano se il dialogo interfamiliare funziona bene il giovane che si avvia ad essere parte integrante della nazione riuscirà nella maggior parte dei casi a crearne una porzione di società sana la famiglia in Italia oggi sta attraversando una grave crisi di identità un tempo la famiglia era un luogo di formazione per i vari aspetti della vita in essa si veniva modellati nel prendersi cura l'uno dell'altro nell'essere sostegno, economico, morale del proprio familiare era luogo di calore nei sentimenti dove quando tutto lì fuori deludeva l'individuo trovava una comprensione, sfogo e consiglio all'interno oggi tutto questo si sta estinguendo ma se la famiglia muore, muore anche la società sono tantissime le coppie che oggi si separano e sempre più numerosi i giovani che rinunciano a sposarsi viste le tragiche scie lasciate dai propri genitori accontentandosi così della consueta convivenza le statistiche Istat più complete sono datate 2008 dove si sono registrate 84.165 separazioni e 54.351 divorzi nell'anno sopracitato infatti si sono verificati 286 separazioni e 179 divorzi ogni mille matrimoni la situazione attuale è che oltre un terzo dei giovani oggi vede inabbissarsi il matrimonio dei propri genitori prima di aver finito 18 anni in conseguenza a questi fatti i ragazzi esternano malesseri di varie entità delusione, ansia, depressione, perdita di interessi isolamento, problemi scolastici ribellione verso tutto e tutti diffidenza per il prossimo, insicurezze tutto questo è un riflesso della nostra società che si ammala sempre di più la crisi economica generale che il nostro paese sta attraversando coinvolge in maniera assoluta il rapporto familiare genitori costretti dalle circostanze a cercare un posto di lavoro che in molti casi non lascia tempo per occuparsi della famiglia e dei giovani nell'età adolescenziale ragazzi e ragazze sono investiti da tempesti di nuovi sentimenti, emozioni momento in cui la presenza fisica di un genitore può essere decisiva per l'andamento determinante del giovane oggi questi vengono bersagliati da vari programmi televisivi social network, nuove mode e tendenze, amicizie e scuola in questa fase se non trovano una giusta guida possono facilmente incamminarsi in un percorso distruttivo milioni di ragazzi tornano a casa dopo la scuola e la trovano vuota sempre a causa del lavoro di entrambi i genitori così i giovani oggi sono più soli di prima e rifugiano i propri sentimenti, aspirazioni in tutto ciò che è esterno all'ambito familiare privi del controllo molte volte si imbattono in problemi più grandi di loro i giovani hanno bisogno di un punto di riferimento che sia fermo soprattutto sotto il profilo etico che li accompagni nella scelta giusta degli amici che si interessi a loro pensieri, problemi e punti di vista che sia pronto ad ascoltare senza giudicare concenne ai genitori l'obbligo di assistere i figli mettendo a disposizione la propria esperienza presentando loro i veri valori della vita ciò che la famiglia genera oggi rappresenta l'Italia del domani la panoramica di questa scheda che vi abbiamo presentato ci fa comprendere già quello che sono le argomentazioni di cui andremo a trattare e naturalmente partiamo già con il contributo del pastore Michele Romeo partendo da un principio fermo che è la nostra esperienza di uomini vissuti e soprattutto di pastori, di persone che hanno adeguato la loro vita a una chiamata, a una vocazione e anche a una elezione da parte di Dio non possiamo non convenire secondo i principi della parola di Dio e stabilire che la crisi che oggi attraversa la nostra società e che parte appunto dalla famiglia non può essere e non potrà essere risolta se non si ritorna al modello originale che è l'atto creativo di Dio l'atto formativo di Dio all'inizio della società per cui pur sapendo, pur essendo consapevoli di gozzare contro un pensiero che va sempre più diffondendosi nella nostra società abbiamo il diritto e il dovere di ribadire che la famiglia per noi è secondo il principio della parola di Dio è fatto di un uomo, di una donna nella benedizione di Dio che è il prosieguo di questa famiglia con i figli e in questo sacro principio non possiamo spostarci rifiutando tutto il pensiero moderno che è quello di convivenze di unioni che si considerano leciti ma secondo la parola di Dio sono illeciti pur lasciando la libertà a ognuno di fare quello che vuole l'altra voce tiene a sottolineare che quello che si semina quello si raccoglie una famiglia diversa da quello che secondo i principi biblici biblici è una famiglia che inevitabilmente andrà a sfociare in quei mali che abbiamo visto anche attraverso la scheda tecnica che è tecnica che ci è stata illustrata non contraddire il pastore Romeo perché al di là di quello che è il concetto o i temi biblici su cui sicuramente tutti siamo concordi la scheda che abbiamo insieme avuto modo di vedere ci invitava a focalizzare la nostra attenzione non tanto su quello che è il contenitore famiglia ma sul contenitore che a sua volta contiene il contenitore famiglia perché al di là di quella che è la struttura biblica della famiglia oggi tutti quanti siamo consapevoli della difficoltà che si va ad incontrare quando si progetta di mettere in piedi una famiglia oggi naturalmente per la generazione precedente alla mia quindi per chi ha messo su famiglia 30 ma anche 40 anni fa non c'erano le difficoltà di oggi potremmo subito andare a viscerare il problema lavoro che è uno degli elementi fondanti di una famiglia perché mettere su una famiglia e poi non avere il lavoro e quindi non avere il reddito che permette di mantenere serenamente una famiglia significa andare a far carico su quelli che sono i genitori e quindi questo già spiega in parte perché oggi la nostra gioventù tarda ad uscire fuori dal contesto della propria famiglia oggi abbiamo giovani che stanno con i genitori fino a 30 e più oltre i 30 anni perché non si arriva ad avere una certezza di lavoro se non dopo queste età i percorsi formativi oramai sono diventati di una lungaggine quasi epocale dopo che si sono finiti tutti i vari tirocini master universitari si sono superati i 30 anni si cerca di entrare nel mondo del lavoro e purtroppo la situazione intorno a noi è quella che è questo è uno dei tanti problemi ma non solo questo oggi la nostra gioventù è figlia di una generazione che ha fatto tanti di quei sacrifici ha sempre cercato di dare tutto e il meglio ai propri figli proprio perché se era figli a sua volta di una generazione che aveva provato gli stenti della fame del post guerra la generazione che è nata dopo la guerra e quindi ha vissuto delle difficoltà ha cercato di dare ai propri figli tutto e nel modo migliore che cosa è accaduto che questa generazione che è venuta su è venuta su senza aver mai mancamento di nulla essendo abituato ad avere il meglio e per usare uno slogan in comode rate cioè senza troppi sacrifici quando poi oggi ci si trova a dover uscire da questo contesto familiare andarsi a confrontare con la difficoltà del mondo del lavoro a doversi mettere in discussione a tirare fuori anche le unghie e i denti per affermarsi nell'ambito sociale diventa un pochettino difficile quindi credo che i nostri orizzonti di discussione di dibattito dovrebbero allargarsi al di là dei nostri temi biblici andare ad avvolgere quello che è il contesto sociale nel quale ci troviamo immersi nel quale tante sicuramente tanti dei nostri telespettatori si trovano a confrontarsi ogni giorno e a vivere difficoltà non di poco con quindi il lavoro quindi il lasciare la propria famiglia al di là di poi che quello che è attorno a noi ma anche la televisione cerca di proporre oramai degli standard di famiglie non più biblici sicuramente noi non li condividiamo però dobbiamo anche cercare di comprendere perché chi è fuori dall'ambito ecclesiale condivide certi modi di affrontare la famiglia forse non è soltanto una carenza nostra come chiesa ma è la società che non avendo la forza di dare delle certezze propina loro degli standard più a buon prezzo per dire guarda non è detto che ti devi sposare per forza non è detto non hai lo stipendio fisso quindi non puoi vivere la famiglia in un certo modo prendi un altro tipo di famiglia accontentati di una famiglia fatta di convivenza poi non è detto che devi per forza sposarti non è detto che devi per forza avere dei figli perché non è detto che la famiglia è fatta per forza di uomo donne e di figli allora tutta questa situazione sta creando un po' di confusione questa confusione certe volte ci ricade anche addosso dobbiamo avere l'onestà di affrontare tutte queste difficoltà senza essere utopici nelle nostre proposte ma essere onesti con quella che è la difficoltà dei nostri tempi avere l'umiltà di continuare ad affidarci all'aiuto di Dio ma di proporre a delle persone delle azioni che sono realmente più concrete di concetti parati troppe volte lontani dalla problematica di tutti i giorni certamente i nostri punti di vista possono essere anche diversi dal fatto che anche la nostra età la nostra maturità le nostre esperienze e naturalmente con gli anni sono diverse anche le esperienze e nel contesto sociale posso trovarmi d'accordo con Elpidio ma posso maggiormente trovarmi d'accordo con quella che è la parte spirituale della realtà della conoscenza dell'applicazione della parola di Dio perché non vorremmo poi sembrare che noi accettiamo di tutto e per tutto soprattutto in quei principi cristiani che sono stati ancora oggetto di tante diciamo riflessioni insegnamenti e tante altre cose certamente noi stiamo guardando e guarderemo tutti gli argomenti da vari punti di vista però voglio ricordarvi che l'altra voce è la trasmissione di servitori di Dio di pastori per cui noi puntiamo in modo specifico poi a dare delle risposte che possono essere risposte che si confacciano soprattutto con quello che è la nostra conoscenza spirituale biblica del nostro percorso devo dire una cosa poi tornando alla parte invece che accennava il video effettivamente i tempi di una volta erano diversi ricordo che quando due si volevano sposare si sposavano anche molto presto ma non perché c'erano molti mezzi i nostri i giovani oggi vogliono tutto cercano tutto però noi che siamo stati giovani ci ricordiamo che all'epoca il tutto non c'era assolutamente l'abbiamo detto e lo confermiamo ma c'era anche un'altra realtà c'era la realtà che anche le richieste il desiderio diciamo anche la moralità non la spiritualità ma la moralità ci portava a volere quando si voleva e soprattutto vedevamo nel matrimonio quello che poi spiritualmente dottinalmente biblicamente e alla base di una vera famiglia vedevamo due cuori e una capanna e questa è l'esperienza che ho fatto anche io direttamente nella mia età è chiaro sto parlando che oggi ho più di 70 anni e quindi mi riferisco a quell'età però ricordo che poi alla fine quando è arrivato il momento di pensare solo a due cuori e una capanna la capanna la parte soprattutto della parte femminile non ci voleva ci voleva qualcosa di ben oltre allora in funzione di questo vogliamo equilibrare un pochettino quello che sono i nostri discorsi fra il sociale e fra quello che è lo spirituale e in tutto questo so che siamo liberi di poterci esprimere che questo dimostra anche una pluralità di intenti e di desideri ed è chiaramente però ricordiamoci sempre una cosa che poi noi confluiremo sempre sulla parte che riguarda quella che riteniamo quella che non può tramontare quella che non può essere assolutamente dimenticata e detto questo voglio passare un altro intervento al pastore Michele Passaretti che sicuramente ancora si esprimerà per quello che stiamo dicendo beh sì è una dialettica vivace questa di questa nostra trasmissione perché? perché il problema della famiglia è un problema molto sentito effettivamente abbiamo considerato che ci sono dei problemi di natura oggettiva la realtà che ci circonda e poi ci sono dei problemi di natura soggettiva che vanno a guastare e vanno a in qualche maniera a minare la consistenza della realtà familiare problemi di natura soggettiva sono l'egoismo sono il peccato perché non dobbiamo assolutamente trascurare questa realtà che è la trasgressione anche al fatto che il matrimonio o che possa essere civile o che possa essere religioso è una promessa di fedeltà e quindi il tradimento è una trasgressione a questo impegno di fedeltà di rispetto di amore esclusivo dato da un coniuge verso l'altro d'altra parte però i numeri ci allarmano quando mi sembra di ricordare parliamo nel 2008 di 50.000 e più separazioni quando sentiamo dire che su mille matrimoni la terza parte sono andati a finire male effettivamente ci allarmiamo ci preoccupiamo diciamo questo accadeva 4 anni fa qual è la situazione di oggi quale sarà la situazione eventualmente da qui ai 10 anni ai prossimi 20 anni forse la famiglia unita che mantiene stabilmente il suo percorso fino alla fine diverrà una minoranza io non vorrei assolutamente pensare a una società che è andata così talmente alla deriva e in tale prospettiva non ci rassicurano nemmeno forse le leggi che dovrebbero sostenere e tutelare e rafforzare il concetto di famiglia perché sappiamo che è un elemento fondamentale della compattezza sociale so che si sta ragionando di fare provvedimenti legislativi ancora in altri paesi non qui in Italia grazie a Dio dei matrimoni a tempo cioè dei contratti matrimoniali che hanno una scadenza io come dire abborrisco a questo pensiero però purtroppo ormai la società sta andando in quella linea in quella direzione e quindi dobbiamo dobbiamo dirle anche con grande sincerità che anche il concetto proprio di famiglia è cambiato perché il concetto di famiglia prevedeva un uomo e una donna che si sposassero si sposavano per avere poi una prole per rimanere il più possibile uniti indipendentemente poi dalla parte della fede ma oggi già il concetto di famiglia e questo sono certo che troviamo e troveremo tante opposizioni al riguardo perché già pensare a famiglie che in sostanza non hanno una realtà di quello che noi abbiamo sempre pensato e poi anche sotto i principi biblici dell'uomo e la donna che si uniscono per essere insieme e insieme procreare e la gioia di avere dei figli oggi già la programmazione la farò mio figlio fra 5 anni fra 10 anni non li voglio e tanti altri per non parlare per non parlare di quello che sta al cuore di molti ma noi come cristiani non possiamo assolutamente accettarlo perché non lo consideriamo di fatto le famiglie sono disgregate famiglie cosa intendiamo per famiglia cosa vogliamo intendere per famiglia qualche cosa che si mette così insieme mettiamo il ferro e il legno le attacchiamo o qualche cosa che abbiano una realtà diciamo sociale anche morale spirituale che porta veramente a quello che è il bene l'affetto la cura e tante altre cose voglio lasciare lo spazio anche per questo argomento prima di entrare sui giovani che stiamo parlando della famiglia ma dobbiamo parlare anche dei giovani lo voglio passare al pastore Antonio Romeo la scheda diceva che oggi tanti giovani hanno una mancanza di identità e questo è vero lo riscontriamo anche in quello che vediamo intorno a noi ascoltiamo attraverso la televisione e veramente i valori importanti che sono fondamenti della vita di una persona di un giovane sono sviliti e avvilenti a volte ascoltare come ragionano i giovani quali sono i loro ideali i loro obiettivi per il futuro e noi abbiamo analizzato già brevemente alcune cause alcune difficoltà che ci sono nelle famiglie nella società che viviamo il lavoro si sono accennati già alcuni problemi ma ribadisco come già qualcuno ha accennato la nostra trasmissione vuole dare anche delle soluzioni delle risposte anche a costo di essere chiamati bacchettoni o bigotti noi vogliamo ribadire che un giovane oggi può trovare una soluzione le famiglie possono trovare delle soluzioni ritornando all'origine a colui che ha ideato la famiglia che è Dio che nella sua parola ci dà indicazioni ci dà guida ci dà consigli da consigli ai genitori dai consigli ai giovani ai figli da consigli ai bambini e proporre a chi ci ascolta di veramente trovare questa soluzione nel Signore perché non sarà la società né la politica e nemmeno la religione a suggerirci delle soluzioni visto il quadro che va sempre di più verso la la disgregazione della famiglia e dei giovani ma vogliamo dire proprio afferratevi al Signore attaccatevi alla parola di Dio trovate in essa veramente il senso lo scopo della vita e le difficoltà non è che non ci saranno ma saranno superate la Bibbia la storia biblica ci narra di fatti regolari cento per cento che ogni volta che una nazione un paese una città un regno una famiglia una persona si è allontanato da Dio e si è incamminato nella via lontano da Dio ha avuto problemi e difficoltà ha trovato quello che sono le difficoltà della vita ma ogni volta che le persone sono ritornate a Dio hanno trovato la benedizione di Dio nella loro vita e dice il saggio Salomone nel libro dei proverbi meglio poco con la benedizione che tanto con tragedie e situazioni incresciose ma oggi l'uomo vuole tutto di più è stato detto ma noi vogliamo che si ritorni a benedizione di Dio questa parolina che è importante per noi deve essere importante anche per chi ci ascolta allora vogliamo adesso siamo un po' spostati sull'asse e ovviamente stiamo parlando stiamo parlando della famiglia se ne parlerà ancora ma in modo specifico prima di passare a un contributo video vorrei dare la parola al pastore Paolo Malerba che è parlarci un poco dei giovani perché dobbiamo adesso entrare soprattutto in quell'argomento che riguarda i giovani nelle varie realtà che andremo a esaminare man mano anche attraverso ripeto quello che sono dei contributi video per cui do la parola al pastore Paolo Malerba si diciamo con quello che abbiamo potuto ascoltare anche dal video ma soprattutto siamo tutti consapevoli dello stato in cui si trovano i giovani oggi in questo contesto diciamo nazionale e noi come pastori non vogliamo solo prendere in considerazione quello che sta succedendo ma come giusto diceva il pastore Antonio vogliamo permetterci diciamo così di consigliare a come risolvere determinati problemi dei giovani come pastori abbiamo un certo che di esperienza in merito personalmente quando ho la possibilità di avere contatto con dei giovani mi rendo conto dei bisogni che hanno è la prima cosa davvero che riscontro il fatto che sono sono soli senza speranza senza un futuro e fra l'altro sono anche interiormente deboli delicati molti di loro soffrono di ansia alcuni depressi insomma bisogna mettere in risalto questo tanto da dover cercare di risolvere il problema ora non per essere appunto bigotti religiosi però il problema lo risolve soltanto il signore Gesù perché Gesù è il salvatore ma non è soltanto il salvatore dell'anima non è soltanto il salvatore colui che non ci condanna e quindi ci scansa dalla perdizione ci scansa dall'inferno ma è colui che quando viene ad incontrare una persona in particolar modo il giovane lo guida lo ammaestra perché Gesù è anche il maestro di vita infatti attraverso la scrittura la parola di Dio si risolvono tanti problemi se riuscissimo a capire che qui dentro c'è un insegnamento di vita molte cose non accadrebbero ricordo che Gesù parlò proprio della famiglia più volte che Gesù parlò di cuori rotti parlò di persone avvilite stanche travagliate del resto proprio i giovani oggi si sentono stanchi si sentono sfiduciati la soluzione c'è solo in una persona io come pastore devo predicare questa persona devo predicare che solo Gesù può risolvere i problemi perché poi ho visto a livello pratico a livello di esperienza come il Signore ha risolto tanti problemi e li risolve laddove tuttavia le persone che vengono ad incontrarci desiderano cambiare desiderano avere una trasformazione quando io vedo un'intervista vedo per esempio testimoniari di alcuni giocatori famosi di calcio i quali hanno una stessa voce una stessa parola dicono Gesù ha cambiato la mia vita Gesù mi sta indirizzando ad agire in una certa maniera ultimamente abbiamo sentito per esempio il giocatore le grottaglie il quale dice io finché non mi sposo non voglio fare sesso perché per quanto mi riguarda questo mi insegna la scrittura questo mi insegna il Signore e quindi quando io mi sposerò il mio matrimonio sarà un matrimonio solido e sarà un matrimonio felice perché lì mi esprimerò al meglio e quindi naturalmente seppure alcuni possono ridere di questa cosa ma laddove si mette in pratica questa parola di Dio laddove c'è questo cambiamento certamente i risultati saranno positivi ci sarà la benedizione di Dio i figli saranno felici i figli avranno dei punti di riferimento non solo nei genitori ma anche in quello in cui credono i genitori quindi credo che la soluzione c'è quindi non vogliamo solo parlare come parlano ovviamente tutti anche attraverso la televisione i mass media i sociologi denunziano quello che sta succedendo oggi denunziano la precarietà diciamo della famiglia la difficoltà dei giovani potremmo descrivere tanti motivi per cui i giovani sono così diciamo sfiduciati ma dire soltanto i motivi e non dare la soluzione noi come pastori non diciamo non ci sta bene quindi la soluzione noi crediamo che quando i giovani vengono a toccare le nostre comunità e toccano la verità che noi predichiamo che non è solo una dottrina non è soltanto lettera non è solo una conoscenza teorica ma è una realtà è un incontro che fa col Signore che cambia le famiglie cambia i giovani cambia tutte le cose e fin anche addirittura cambia risolvendo la crisi economica che c'è all'interno delle famiglie e anche che tocca i giovani credo che il Signore è potente da fare questo e lo ha fatto lo fa e lo farà ancora beh io io credo che qui ciò che è stato detto fa parte di quello che sono le nostre realtà soprattutto i nostri doveri sotto l'aspetto spirituale ma voglio spostare un po' l'asse della discussione perché abbiamo alcuni contributi che sicuramente sono molto interessanti per esempio andremo a un contributo che ci parla del progresso tecnologico e la famiglia per cui invito la Regia a dimandare il primo contributo Quanto il progresso tecnologico influisce nel rapporto familiare? Per me credo tantissimo perché è venuto a mancare la cosa fondamentale che è la comunicazione e internet blocca molto la comunicazione perché un giovane inizia a pensare torna a casa e accende il computer invece forse di raccontare la propria giornata alla madre a un fratello a una sorella a un padre A mio parere è una cosa molto pessima quindi influisce negativamente su questi sui rapporti diciamo con gli altri familiari Abbastanza ha migliorato il modo di vivere delle nuove generazioni Beh con questo contributo vorrei passare la parola al pastore Daniele Bachman per cominciare ad ampliare anche su questo argomento su questo soggetto Certamente possiamo dire che il mondo cambia cambia negli ultimi decenni in modo rapido in modo straordinario Noi come genitori noi come non vogliamo dichiararci vecchi ma già un po' avanzati nell'età Certamente a volte troviamo difficoltà di capire i giovani di oggi che con internet con facebook con tante cose che si divertono con i telefonini con tante cose che dobbiamo andare a chiedere a loro l'aiuto magari il computer non funziona più e andiamo dai giovani ma non solo in queste cose tecniche ma anche nel rapporto tra giovani e vecchi io credo che anche i giovani ci hanno qualcosa da insegnare possiamo imparare delle cose anche dai giovani e i giovani ovviamente possono imparare anche qualcosa di quelli che hanno già un'esperienza tante volte siamo svogliati noi forse più avanzati nell'età di imparare dai giovani e i giovani non tanto vogliono imparare da quelli che hanno già un'esperienza perché vogliono diciamo fare la loro esperienza vogliono vivere al modo loro ma dobbiamo anche dire che diciamo la modernità la tecnica moderna certamente ha un'influenza particolarmente incissiva sui giovani pensiamo all'influenza televisiva che magari si fa comprendere che a Hollywood i star delle persone più importanti si divorziano risposano si divorziano risposano qualcuno famoso magari sette otto volte si è divorziato risposato e sembrano delle persone importanti sempre ma c'è una confusione che certamente i giovani hanno difficoltà di credere alla famiglia alla semplicità come magari noi più anziani abbiamo vissuto da giovani ma noi crediamo che comunque grazie a Dio ci sono ancora giovani che vogliono vivere una vita nuova una vita diversa proprio in questi ultimi giorni ho esperimentato un giovane che ha detto io voglio accettare Gesù io voglio una preghiera voglio seguire questa via io sento che questa è la via questa è la strada e noi vogliamo incoraggiare questi giovani di avvicinarsi alla parola di Dio e di seguire Cristo perché lui ci guiderà ci aiuterà e forse anche questi mezzi moderni come Facebook uno dei miei figli dice ma sai qualcuno tramite Facebook dai testimoni di Giova con la confusione nella testa tramite Facebook è stato indicato di conoscere Gesù e si è sollevato tramite questi mezzi che noi forse abbiamo difficoltà di accettare Dio può servirsi anche dei giovani per l'evangelizzazione per far conoscere questi valori che noi vogliamo trasmettere beh i pastori sono sempre portati di più a parlare sempre della fede e meno della tecnologia ma dobbiamo dire la realtà che la tecnologia ha la sua grande importanza quello che vogliamo vedere è come comunicano attualmente genitori e figli come comunicano sono cambiati i modi anche di comunicare proprio attraverso quei mezzi qui accennava anche Daniele quello che riguarda queste realtà che Bogotino stanno prendendo o hanno già preso veramente un posto troppo importante dico troppo perché ogni cosa va fatta con una certa moderazione allora vogliamo continuare prima ancora di passare al pastore Michele Romeo su quello che è la comunicazione fra appunto la famiglia in base a questi mezzi tecnologici devo dire una cosa vogliamo ricordarci che un tempo era cattiva educazione per una famiglia normale quella che il capo di famiglia mentre mangiavano salzava prendeva il suo giornale e se lo poneva davanti era un modo per non comunicare quello era un modo e oggi di modi ce ne sono diversi vogliamo mandare quest'altro contributo video e do via alla regia per questo contributo quali sono i valori che la famiglia di oggi sta perdendo rispetto alla famiglia di ieri la prima è la comunicazione non riesce più secondo me si è allontanata un po' anche perché c'è troppa libertà quindi si è allontanata un po' il punto di di cercare di capire un figlio di mettere lì a parlare a chiedergli se c'è qualcosa che non va e invece per esempio la maggior parte spezza proprio con internet la vita era bella adesso no è cambiato tutto era bella era serena oggi no oggi sono tutti stressati oggi le famiglie si stanno distruggendo man mano sempre passando più col tempo perché ci sono molti tradimenti che non sono più unite come una volta e non si seguono i figli come si rispettavano tanti anni fa vogliamo passare la parola a pastore Michele Romeo indubbiamente quello che noi possiamo constatare che la tecnologia di cui oggi grazie a Dio è sempre più avanzata e che i giovani in modo particolare se ne servono sicuramente molto meglio di noi anzi per tanti di noi alla nostra età insomma siamo completamente analfabeti rispetto a tutta questa tecnologia moderna però vorrei solo far notare che tutti questi successi della nostra tecnica della scienza moderna e anche le difficoltà come si accennava prima come accennava prima anche pastore Alpidio cioè della necessità della impossibilità del lavoro anche quando praticamente si è laureati eccetera che sono sicuramente delle difficoltà che incontra il giovane che incontreranno sempre di più però quando noi abbiamo visto la scheda lì che parlava della crisi della famiglia cioè di giovani che già sono entrati nel matrimonio cioè che hanno fatto tutti i festeggiamenti che forse hanno acceso anche il mutuo per cui si sono già avviati in una vita familiare in un contesto familiare superando quelle difficoltà che oggettivamente sono le difficoltà dei giovani allora perché poi ci sono i divorzi ecco perché poi fallisce sicuramente non dipende dal fatto finanziario perché questo doveva essere a mondo io credo non posso non sostenere questo che la crisi in questo contenitore che è la famiglia è una crisi di valori che la stessa società le stesse leggi hanno cercato e cercano di mettere un freno per esempio quando noi sposiamo come ministri di culto una coppia e leggiamo gli articoli del codice civile cioè noi già lì notiamo una contraddizione enorme perché quando un articolo di legge dice che dal matrimonio deriva la coabitazione e la fedeltà ma questo è un controsenso enorme perché già si coabita prima e già non si è fedele prima invece guardiamo la realtà biblica non dal matrimonio deriva la fedeltà ma dal fidanzamento deriva la fedeltà perché è lì che parte ecco perché lo svilimento di un valore essenziale dovuto e regolato alla parola di Dio da uno sregolamento delle leggi e dei valori è chiaro che i giovani non potranno mai trovare nella tecnologia nel lavoro nel denaro tutte cose necessarie ma non sono quelle i valori che formano una famiglia se Dio se le leggi morali di Dio sono fuori dal contesto familiare sicuramente noi purtroppo assisteremo a uno spascio sempre maggiore perché non ci sarà danaro non ci sarà tecnologia non ci sarà abbondanza che darà pace e serenità ai giovani e alle coppie e voglio concludere proprio con un esempio biblico di duemila anni fa che non c'era tutto diciamo i soldi la tecnologia quando quella donna normale una donna normale di la Samaritana incontra Gesù cosa è il pregresso nella sua vita ha fatto cinque divorzi poi sta facendo una convivenza finalmente il settimo uomo che incontra è Gesù e lui gli dà la pace per cui non possiamo dire che il valore di una famiglia non può fondarsi al di fuori di Cristo e della parola di Dio credo che sul concetto di famiglia siamo così come dicevo prima più che in sintonia forse dovremmo nelle nostre avresti fare un po' di autocritica e davanti ai numeri da cui siamo partiti che ci piovono addosso come dei macigni perché quei numeri non sono solo parte della nostra società ma spesso questi numeri lambiscono anche il contesto delle chiese molti di questi matrimoni che sono rotti sono matrimoni che sono religiosamente celebrati allora il problema non è lontano da noi anzi spesso sta accadendo che il problema è nel nostro mezzo allora nella nostra veste di uomini chiamati a servire queste persone a servire anche le famiglie a servire le coppie che hanno già costituito una famiglia e le coppie che si proiettano ad essere una famiglia forse si devono allargare i nostri orizzonti e l'ultimo video che abbiamo visto ci poneva dinanzi al problema della comunicazione purtroppo sta accadendo che spesso anche questi nuovi strumenti tecnologici non sono più il diversivo di un momento ma stanno diventando l'alternativa o addirittura il mondo parallelo prima dello scoppio di Facebook e di social network c'è stato un altro fenomeno che era quello degli avatar dove chiunque entrava in questo mondo virtuale si rappresentava così come si vedeva nel suo immaginario e molti di questi che sono entrati in questa rete virtuale sono anche persone che condividono una fede è una fede cristiana il mio quesito che ponga a me che ponga anche a voi che ponga anche ai telespettatori ma cos'è che spinge delle persone a cercare una vita diversa in maniera virtuale non sono forse questi segni di profonde insoddisfazioni che dimorano nel cuore di giovani meno giovani di adulti di persone quasi anziane perché davanti a queste cose non c'è età che tenga naturalmente le classi più giovani guardando quelle che sono davanti sono costrette a riflettersi in esse queste problematiche diventano parte del proprio DNA di vita e quindi diventano delle cose automatiche davanti alle quali dopo un certo periodo raggiungono la sua effazione e quindi non le vivono neanche più come qualcosa di diverso non è più il problema non è più la cosa da combattere con la fede con la preghiera cose che noi continuiamo ad insegnare ma diventano le cose normali perché sono le cose che accadono a tutti e se accadono a tutti possono accadere anche a noi allora noi davanti a questo problema che teniamo ben presente come ci dobbiamo comportare da dove dobbiamo cominciare possiamo continuare a fuggire dai social network e spesso condannare tutto come pericolosi o forse dietro di questi come diceva il pastore Daniele ci possono essere degli strumenti da essere veicolati questa trasmissione lo testimoni il nostro canale televisivo teleoltre lo testimoni che ci sono strumenti che possono essere utilizzati a dei fini ben precisi ma a dei fini che portano un beneficio allora noi come responsabili di chiese davanti a certe situazioni ci sentiamo si responsabilizzati però a volte avvertiamo che la nostra capacità al di là della capacità spirituale la nostra capacità di andare a porre dei rimedi è limitata perché come esseri umani non possiamo avere tutte le competenze noi stessi cerchiamo di rincorrere gli strumenti tecnologici ma oggi apprendi una cosa e domani siamo già arretrati di un millennio perché l'evoluzione è così veloce allora penso che dobbiamo sforzarci forse ecco questa trasmissione continua testimoniale che dalla sinergia dal confrontarsi dal mettersi assieme la chiesa può cercare di dare delle proposte che andranno incontro ai bisogni bisogni che naturalmente devono essere ascoltati perché noi possiamo vedere una realtà però possono essere i bisogni diversi da quelli che vediamo allora ecco il continuo ascolto Gesù ci ha insegnato abbiamo già diverse volte e menzionato la scrittura Gesù in diverse occasioni prima di parlare Gesù ascoltava le persone accoglieva le folle e poi dopo distribuiva da valore il pane della vita che possa esserci da parte nostra questo stimolo per cercare di continuare a fare sempre meglio e sempre di più c'è una chiara conflittualità tra giovani e famiglie e le ragioni le stiamo vedendo ne vedremo e ne possiamo vedere anche in futuro sempre di più vogliamo continuare ancora ad approfondire questa differenza questa realtà di relazionarsi tra quelle che sono appunto la famiglia stessa e i giovani e voglio offrirvi il prossimo contributo a tal riguardo per cui invito la regia a mandare anche questo contributo perché molti giovani non riescono ad esternare le proprie paure emozioni e sentimenti ai loro genitori può darsi anche che tanti genitori anche hanno paura come i figli e non riescono sono prima loro che hanno paura come i figli e non riescono a trovare quale sia la fonte magari che possa aiutarli ci sono dei problemi grandi problemi magari chi si rivolge a dottori medici forse perché hanno paura di non essere capiti perché a volte un genitore ti dice che subito dice che i problemi dei giovani sono sciocchezze rispetto ad un grande però non riescono a capire che ogni età ha il proprio problema quindi dovrebbero stare lì proprio perché sono genitori devono capire il problema di un bambino di tre anni di dieci anni di vent'anni e questo è venuto molto a mancare quindi questo è come mettere un pilastro tra un giovane e un genitore sì il contributo in qualche maniera mette in luce il conflitto generazionale che mai è stato risolto tra i giovani figli e gli adulti genitori d'altra parte nei giorni che noi viviamo probabilmente forse il divario tra queste generazioni si sta allargando forse anche la velocità come dicevamo prima dei cambiamenti e quindi la difficoltà di stare gli uni al passo con gli altri però a me sembra che c'è un punto d'incontro ci sono dei ponti che possono costruire il dialogo la comunicazione e anche la comprensione evidentemente dobbiamo sforzarci e sforzarci di più come genitori e come figli a comprendere che quello che noi pensiamo superfluo inutile evidentemente non necessario che è appunto il dialogo che è anche il confidarsi sono elementi importantissimi dove anche alcune difficoltà di natura caratteriale di natura abbiamo detto generazionale di natura anche culturale debbono essere in qualche maniera risolti perché all'interno della famiglia c'è bisogno di questi canali di dialogo di comunicazione per sviluppare i rapporti e far crescere l'amore cari spettatori siamo ormai abbiamo ancora un po' di minuti e chiaramente vogliamo avvicinarci un po' di più a quello che forse è la cosa che più sentiamo nel cuore ma prima ancora di passare all'ultimo contributo video vorrei dare la parola al pastore Antonio Romeo si è sviscerato già tutti gli elementi negativi per quanto riguarda la comunicazione che si interrompe tra genitori e figli tra moglie e marito a tavola nella famiglia tra giovani il lavoro e società tutte queste cose e la spinta che i mass media le nuove tecnologie spingono verso l'intrattenimento le cose futili piuttosto che le cose concrete e ribadendo il concetto che noi ci troviamo di fronte a un gigante però questo non ci deve spaventare di dichiarare di dare testimonianza che c'è la soluzione nel Signore Gesù non dobbiamo anche noi venire meno mollare in questo ma andare controcorrente e le testimonianze anche io vorrei portare una testimonianza ce ne sono tante quello di le grottaglie che diceva il pastore Paolo è stata eclatante perché per televisione lui ha possibilità di comunicarla quella invece meno eclatante ma pure sostanziale che il pastore Bachman ha raccontato questo giovane ascoltando la testimonianza detto questa è la verità accettando voglio accettare il Signore voglio seguire questo cammino ci sono tanti giovani oggi nelle nostre comunità centinaia migliaia che hanno deciso di andare controcorrente di arrivare al matrimonio senza fare sesso prima per rispetto al Signore per onorare il Signore ci sono tanti giovani oggi i movimenti giovanili sono in grande crescita in in antidesi a quello che un giorno si diceva quando si testimoniavano alle persone e quando mi farò vecchio pensando che la religione il Vangelo il cristianesimo è qualcosa di vecchio oggi invece noi possiamo testimoniare ci sono tanti giovani che hanno dato la loro vita e che comunicano col Signore se non comunicano i genitori ma comunica Dio è un comunicatore eccezionale lui parla a noi e ci ascolta volentieri bene siamo ormai giunti quasi alla conclusione voglio offrirvi ancora quest'ultimo contributo che riguarda qualche consiglio quindi siamo già entrati ampiamente ancora precedentemente nella forma di consigli spirituali ma voglio offrire quest'ultimo contributo per cui indico alla regia di darci ancora questa ultima possibilità prima della conclusione che daremo prima al pastore Paolo Malerba e poi a Daniele Bachman tu da giovane un consiglio che daresti ai genitori di oggi di essere anche come un fratello e una sorella verso i loro figli cercare secondo me di stare più vicino ai propri figli e ritornare alla vecchia famiglia quella unita volevo dire quando ero giovane avevo uno massimo due amici ed eravamo contenti di condividere tante cose della nostra epoca adesso è strano che i giovani di oggi proprio a causa della tecnologia hanno migliaia di amici alle volte leggo su facebook che uno ha duemila amici un altro ne ha tremila altri quattromila io capisco che è proprio il risultato di una solitudine straordinaria che nei giovani i quali cercano naturalmente disperatamente di essere solidali o di ricevere solidarietà da altri però non ritengo che questa sia la soluzione del problema se dovessi dare un messaggio ai giovani l'amicizia è una cosa molto importante molto profonda e la vera amicizia rende più facile la vita quindi sarebbe più opportuno non avere mille duemila tremila amici su facebook ma di averne uno due confidenti due con i quali diciamo si può condividere la propria esperienza e credo che questo sia diciamo positivo perché quando c'è la solidarietà e l'amore l'amicizia condivisa con amore le cose andrebbero molto meglio voglio ripetere un po' quello che ci ha stato detto che noi abbiamo una guida nella parola di Dio la parola di Dio è una guida concreta per i più avanzati ma anche per i giovani Dio ci indica una via da seguire e non soltanto diciamo i credenti quelli che sono dentro diciamo nelle nostre chiese ma noi vogliamo essere coraggiosi sempre di più ancora di uscire fuori è vero per molti incomprensibile forse di lasciare anche certi peccati certi modi di vivere è difficile di seguire questa strada che ci conduce alla vita ma la parola di Dio è forte lo Spirito Santo opera anche oggi e noi vogliamo pregare anche per i giovani vogliamo pregare che in questa società disorientata Dio possa dare forza a tanti giovani di seguire questa strada di lanciarsi di lanciarsi nella fede e di aprire il cuore a Gesù dire Signore Gesù bisogna di Te io forse non ce lo faccio molti hanno paura ma io sono troppo peccatore non ce lo faccio qualcuno nemmeno riesce a togliersi la sigaretta ma il Signore ci incoraggia di avere fede e noi vogliamo incoraggiare i giovani che lo Spirito Santo può farcela se noi veramente ci affidiamo a Lui allora vogliamo incoraggiare tutti i giovani di seguire Cristo di lasciare ogni cosa di questo mondo che ci trascina è vero possiamo usufruire di questa tecnologia ma lo Spirito Santo ci vuole guidare ci vuole usare per portare la pace ancora in questa società e noi anche più avanzati vogliamo dare una buona mano ai nostri giovani perché possono seguire Gesù meglio e noi diamo gloria a Dio per tutto beh abbiamo abbiamo toccato diversi argomenti abbiamo cercato di esprimere i nostri pensieri ma soprattutto poi come avete visto alla fine la conclusione viene sempre su quello che è la nostra fede dobbiamo dire che il nostro Dio è amore certamente parliamo dei giovani ma non dobbiamo pensare che solo i giovani devono essere corretti aiutati ma anche le famiglie quando ci sono le famiglie se le famiglie continueranno ad esserci e noi auspichiamo che realmente ci sia una nuova realtà familiare nel senso vero di potersi apprezzare di potersi voler bene e di una collaborazione tra genitori e figli non deve esserci un'antitesi continua uno contro l'altro ma dobbiamo comprendere dobbiamo comprendere sia quelli che sono i genitori e quelli che sono i figli quindi vicendevolmente certo non è un compito facile noi proveremo a dire qualche altra cosa e lo faremo con l'aiuto di Dio nella prossima trasmissione certamente stiamo focalizzando principalmente le realtà giovanili e quelle lì soprattutto particolarmente negative difatti la prossima trasmissione avrà come soggetto le dipendenze so che è un argomento di grande attualità soprattutto di grande difficoltà soprattutto con la speranza come cristiani che sia un argomento che possa sollecitare tanti a poter allinearsi con quelle che sono le espressioni della fede cristiana autentica e di quello che ho detto prima quello che è dell'amore di Dio detto questo passiamo alla conclusione stiamo per concludere e a questo punto il saluto dei pastori che hanno partecipato il pastore Michele Romeo c'è il pastore Paolo Malerba Michele Passaretti e ancora abbiamo Elpidio Pezzella Antonio Romeo e Daniele Bacaman e a questo punto ringraziandovi per l'ascolto e soprattutto nella visione di questo programma perché Teleoltre continuerà ancora a darvi quello dell'altra voce l'altra voce questo nuovo programma che su questa linea cercheremo di migliorare ci sforzeremo sempre a migliorarlo sotto tutti gli aspetti ma soprattutto speriamo che queste nostre parole possano giungere al cuore di tanti siano genitori che figli perché vogliamo che Dio vi benedica a Grazie a tutti.